Allora, siamo qui, Targa Puglia, Michele, siamo in compagnia, in casa del sindaco, giusto? Sì. Ma dove ci troviamo, scusate che io mi sono un po' perso? È un posto dove fa un po' fresco. Ebbè, siamo a 850 metri sul livello del mare, quindi a Monte Sant'Angelo. Monte Sant'Angelo, per chi è appassionato di automobili, è chiaro che la conosci in Puglia, Monte Sant'Angelo, per tanti motivi. Prima abbiamo avuto un momento molto solenne, in cui abbiamo ricordato l'amico Paolo. Signor sindaco, che cosa è per lei oggi portare queste macchine bellissime, alcuni pezzi unici, alcuni anche da fuori, qui nel suo salotto? È una forma diversa di pellegrinaggio, se lo vogliamo intendere in questo modo. Questa volta non a piedi, come facevano le compagnie dei pellegrini di un tempo, ma con delle autodepoca. Per cui credo che sia appunto una forma diversa, ma una forma sempre di pellegrinaggio. Anche lei crede nel turismo che viene da queste, tipo la Targa Puglia, dalle manifestazioni, chiamiamole di nicchia, ma che spostano comunque diverse persone? Beh, ci sono diverse forme di turismi e diverse forme di accoglienza. Montesantaggio si presta bene a quasi tutte le forme di turismo. Noi abbiamo il turismo, diversi turismi, da quello naturalistico a quello culturale, a quello storico e anche a quello religioso. Questo di Targa Puglia è un bel... è una forma diversa, diciamo, di turismo, molto delitto, possiamo definirla. E per questo abbiamo accettato sin da subito l'invito di Michele Perla, dell'amico Michele Perla. Beh, voglio aggiungere una cosa, in realtà non è delitto, è di buon gustare. E siamo venuti qui perché, a parte il posto, a parte il clima, pare, di proprio pare, che ci siano delle cose molto buone. C'è un pane meraviglioso, ho visto una pagnotta di 18 kg. Quindi, non so, è un posto... Ovviamente, Michele, tu ci hai portato mano a mano qui nel Gargano. Andremo a scoprire il Gargano. Partiamo oggi da Montesant'Angelo. Partiamo da Montesant'Angelo perché è la città dei due patrimoni oneschi. Il primo lo stiamo andando a vedere adesso, è la grotta di San Michele e la basica di San Michele. Il successivo lo vedremo domani mattina nella foresta Umbra, sono le antiche faggete tetuste. Poi andremo a Vieste a vedere i trabucchi, che stanno anche loro ristrutturando benissimo, sono ristruzioni di pesca bellissime. E domani torneremo sulla Litorania, per goderci il Gargano lato mare, dove vedremo il mio chiuso, va a Baia delle Zagare, mattinata, e poi torneremo qui e ci aspetteranno ancora loro per una lupuliana. Quindi ci stanno coccolando, proprio, eh? Assolutamente sì, assolutamente sì, e l'anno prossimo torneremo un'altra volta qui perché ci stanno trattando benissimo. Signor Sindaco, che dille, io a nome dei partecipanti mi permetto di ringraziarla per ora e ci accompagnerà dove in questo momento? In questo momento andremo nella Basilica Celeste, la Basilica di San Michele Arcangelo. Andiamo alla Basilica. Grazie, signor Sindaco.